E' stata inaugurata ieri sera, mercoledì 28 agosto, all'interno del santuario, alla presenza di numerosi fedeli che hanno animato la veglia di preghiera. La teca, progettata dall'architetto Marina Balucci, che l'ha presentata insieme con l'architetto della società realizzatrice Sebastiano Serra, permetterà in pianta stabile di custodire il prezioso reliquario delle lacrime di Maria. Reliquario che è stato posto all'interno della teca dallo stesso Don Luca Saraceno. Con i gruppi del santuario e fedeli della parrocchia Chiesa Madre di Floridia, che hanno pregato insieme e che poi sono rimasti per un momento di preghiera personale. Proiettato anche un filmato, in cui sono state racchiuse le foto che hanno documentato il pellegrinaggio del reliquario all'interno di varie realtà. Il reliquario custodisce un panno ricamato utilizzato dalla signora Antonina Giusto per coprire e custodire il quadretto, che spesso era interamente bagnato dalle lacrime. La metà di un fazzoletto impregnato di lacrime, donato dalla signora Lisetta Toscano Piccione, la provetta in cui fu riposto il liquido prelevato dagli occhi del quadretto dalla commissione scientifica, il primo settembre, circa 30 gocce e alcuni batuffoli di cotone. Ai pellegrini che adesso si accosteranno al reliquario, ha sottolineato Don Luca Saraceno, si è concesso l'ascolto, la pazienza nella sofferenza, la carità verso il prossimo, la forza nell'evangelizzazione della parola di Dio. Che fu sigillata e fu fermata la pergamena che ne attesta l'autenticità, l'8 maggio 1954, porta agli angoli della teca quattro statue. Santa Lucia, patrona della città, San Marziano, primo vescovo, San Pietro e Paolo, colonne portanti della chiesa. Nel secondo piano, quattro pannelli ricordano il prodigio della lacrimazione. Nel terzo piano, custodita da quattro angoli, sta l'urna di vetro in cui vi è la fialetta che contiene le ultime lacrime, quelle rimaste dopo l'indagine scientifica. O vergine delle lacrime, strappa dalla durezza del nostro cuore lacrime di pentimento. E' questa l'incisione in latino alla base del reliquario. Grazie. 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 Grazie.